Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi il secondo capitolo della pescata della volta scorsa che vi linko qua in descrizione. Dopo aver preso i primi pesci ho deciso di cambiare spot, è stato altrettanto fruttuoso, c'è stato anche un episodio abbastanza divertente che troverete più avanti nel video. Non mi resta che augurarvi una buona visione e noi ci vediamo presto. Ciao! Chi si ricorda di questo spot vince un abbraccio. Ciao! E' stata dura, eh? E' stata dura a convincervi. Stata duretta, ma anche in questo caso le bolle mi hanno salvato. Vediamo. Sì. 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 Cucciolotto, vieni! Dai, su! Cucciolino! Cucciolino! Guarda che bel colore che hai però! Qua i pesci sono veramente stupendi! Tra l'altro... Vai, vai da solo! Vai da solo, ciao! Grazie! Grazie mille! Voi non vi mettereste sotto quella pianta qua! A riposare! Pfff! Non neanche accorto! Ma non volevo tè però! Non volevo tè! Vieni qua! Salame! Vieni qua! Sì, anche Ciccione! Non volevo tè! Volevo una carpotta! Vieni Ciccione! Molte specie oggi! Scardolone! Super scardolone! Almeno posso fare una playlist scardole! Scusate la battuta! Però... Un tanto! Spezia in più sul canale! Non volevo... Vieni qua! Vieni qua! Vieni qua! Poi dicono... Poi dicono... Poi dicono che il problema... Dei pesci... Sono i siluri... E' l'uomo il problema dei pesci! Eccolo qua! Guarda! Che schifo! Grazie a tutti